ciao a tutti in questo video vogliamo mostrarvi le novità che sono arrivate per quanto riguarda il pannolenci abbiamo questa fantasia che è di pasqua infatti vedete ci sono dei coniglietti e delle uova di pasqua ed è disponibile in questo colore giallo verde arancione fucsia e turchese poi sono tornati disponibili altri pannolenci che erano finiti come glitter pan qua non so se si vede bene con la busta e acqua anche il verde e poi questo nuovo colore del pannolenci effetto pizzo che era già arrivato in rosa in celeste adesso è disponibile anche in questo pan molto molto bello trovate tutto sul sito come sempre www.martaattac.it ciao